ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è Rossella Pani oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana siamo nel periodo delle feste quindi questa lettura abbracerà il capodanno la fine dell'anno quindi vi chiedo con amore di chiedere al vostro sacro cuore i messaggi più giusti per voi per il vostro massimo bene che vi possano accompagnare nella chiusura di un vecchio ciclo e nell'apertura di un nuovo ciclo un nuovo inizio una nuova avventura possiamo veramente lasciare andare il passato e prendere in mano la nostra vita per realizzare i nostri più grandi sogni e obiettivi personali e dell'anima iniziamo con una preghiera di protezione invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore mi seguono invoco te arcangelo michele maestro gesù maria maddalena maria regina celeste e l'intera coscienza michaelica e con amore vero puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole ed azioni e di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze aiutandoci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato creando uno scudo di protezione completo impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce l'amore più puro e vero di dio dea onnipotente padre e madre chiedo massima protezione fisica psichica in tutti i livelli per me e per tutte le persone coinvolte chiedo che la nostra energia sia radicata fino al centro della madre terra e chiedo che sia veramente di chiedo massima guida e assistenza per ricevere i messaggi più giusti per tutte le persone coinvolte per tutte le persone che con tanto amore attendono guida ed assistenza grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie maria regina celeste grazie maria maddalena e fa grazie all'intera coscienza michaelica è fatto è fatto è fatto e così è così sia ora per sempre per l'eternità suddivideremo la lettura in tre gruppi anzi voglio fare una cosa nuova voglio fare una lettura generica affinché voi possiate prendere il messaggio più giusto per voi e per il vostro massimo bene cosa ne pensate ok allora iniziamo con la prima carta avventura ok avventura voglio cambiare questa volta mi piace cambiare mi da mi da gioia ok vediamo un po cosa ci vogliono dire gli angeli per questa per questo periodo di transizione da un vecchio ciclo un nuovo ciclo compassione quindi diciamo passato recente una nuova avventura che inizia presente compassione celebrazione nel futuro prossimo benissimo praticamente sto leggendo il passato recente il presente il futuro prossimo in base all'energia del momento perché comunque il concetto il discorso del futuro per chi conosce la fisica quantistica noi sappiamo che abbiamo infiniti potenziali futuri noi cambiamo la nostra energia presente possiamo cambiare la nostra realtà futura quindi il futuro che viene letto attraverso le carte il futuro prossimo diciamo vicino in base all'energia del momento ok è molto importante sapere questo è per questo che alle volte nelle letture quando si legge il futuro molte persone ci azzeccano e altre no non è un discorso di azzeccarci è questione che magari la persona ha cambiato energia e quindi ha cambiato la propria realtà e bisogna prendere consapevolezza di questo anime belle allora passato recente sciogli voti di povertà ok ricordiamoci che presente passato futuro vivono simultaneamente quindi diciamo questo è anche un invito allo scioglimento dei voti perché riguarda queste carte sono allora le prime carte sono degli unicorni riguardano gli aspetti di diciamo personali spirituali e diciamo della vita no delle dei cambiamenti nella vita mentre invece queste sono le carte dell'abbondanza chiedi che i tuoi bisogni siano soddisfatti ok e ora vediamo nel futuro prossimo che come sviluppare l'abbondanza nella nostra vita va bene in che modo possiamo pausa di tranquillità ok adesso vediamo un po diciamo che c'è bisogno proprio di lavorare sul cambiamento vibrazionale ed energetico e quindi c'è un invito anche alla pausa la tranquillità la serenità in quanto noi manifestiamo abbondanza se siamo in uno stato di pace minimo e di gioia ok nuove amicizie fantastico bene scusate aspettate che metto il silenzioso mi dovete scusare ok vediamo un po presente i sogni diventano realtà diciamo che questa è una lettura molto interessante perché il risveglio del vero sé vedete ci sono sia gli aspetti materiali che gli aspetti spirituali allora iniziamo la nostra lettura angelica avventura hai appena iniziato dei nuovi progetti o sono ancora nel lettere nel senso che hai avuto delle intuizioni è venuto il momento di sviluppare questo progetto di avviarlo di iniziare ad agire nella direzione dei tuoi obiettivi e se l'hai già fatto nuove avventure alle porte ti apriranno veramente nuovi orizzonti quindi assolutamente diciamo che è proprio un la riguarda la manifestazione dei tuoi desideri dei tuoi sogni questa carta può voler dire anche un trasferimento in una nuova località magari un viaggio un viaggio che tanto desiderato il cambiamento anche di cambiamento di di posto è proprio bisogno di cambiare energia di cambiare zona cambiare casa cambiare gente hai bisogno di questi cambiamenti una nuova avventura i cambiamenti servono per per evolvere quindi se stai vivendo il cambiamento con resistenza lascia andare la resistenza perché questi cambiamenti sono per il tuo massimo bene ok bene l'energia del presente incentrata nella compassione ricordiamoci che guarire il passato è fondamentale per manifestare la vita dei nostri sogni quindi un invito al perdono alla compassione la compassione del mondo là fuori di un mondo che è violento di un mondo che è falso non sempre così non per tutti però per alcuni di voi vi sembra di di cioè vi state vivendo due realtà parallele una la realtà dei vostri sogni obiettivi piena di gioia di abbondanza di bellezza e l'altro il mondo che non è reale è reale se tu decidi che sia reale per te ok è importante creare la tua realtà la realtà che tu vuoi perché nel mondo esistono cose bellissime e meravigliose se noi vogliamo creare un nuovo paradigma di amore dobbiamo smettere di guardare la realtà tra parentesi della tre terza dimensione perché la realtà della terza dimensione non è altro che la manifestazione di pensieri e di emozioni passate quindi è come che tu la realtà che vivi adesso è il passato perché è stata manifestata dai venti passati cioè da esperienze energetiche cinestetiche pensate sentita nel passato vi sembra un po strano ma è così quindi vivere il presente significa vivere con pace con serenità con armonia e con gioia con gratitudine per quello che sei per quello che vuoi raggiungere e cercare di vivere la realtà che vuoi manifestare nella nella gratitudine nella gioia come che già avvenuto ragazzi la legge dell'attrazione è proprio questa perché il cervello non distingue l'inconscio intendo l'inconscio non distingue ciò che è reale da ciò che è immaginato vivamente dentro di noi quindi cerchiamo di vivere l'esperienza dell'abbondanza della pace della salute della bellezza della fratellanza della sorellanza della nuova terra da uno stato di gratitudine del futuro nel presente ok ragazzi vi piace questa immagine non è solo una parte perché è più ampia è una delle mie carte degli angeli e questa è la carta degli star seed ok molti semi stellari sono qui sulla terra stanno aspettando il cambiamento il salto quantico e questo avverrà ma dipende da noi da da noi ragazzi più noi vibriamo nell'amore nella pace nella compassione nel perdono nella gratitudine nella gioia nell'abbondanza e più avremo diciamo e più potremo accelerare il processo della manifestazione non solo dei nostri sogni materiali o comunque dei nostri sogni di tutti i giorni ma di un paradigma più più ampio di un qualcosa di che riguarda l'intera collettività ok comunque il futuro prossimo è assolutamente un futuro di celebrazione cioè arriveranno grandi opportunità per te grandi cambiamenti positivi veramente un risultato positivo nella tua vita potrei celebrare il tuo successo personale spirituale quindi assolutamente inizia a dire grazie perché questo è quello che sta arrivando per te ok per quanto riguarda la manifestazione della ricchezza dell'abbondanza è importante sciogliere quelli che sono i voti di povertà è importante perché sono delle resistenze tu nella con la tua volontà vuoi manifestare qualcosa riguarda anche il discorso del del nubilato e del celibato i voti di limitazione alla gioia all'abbondanza alla ricchezza ma anche all'unione sacra con il tuo partner di vita diciamo che devi sciogliere questi voti ok questi voti li puoi aver stipulati in questa vita o nelle altre vite consapevolmente o inconsapevolmente quindi hai la possibilità di sciogliere io ti consiglio di recitare di ascoltare tutti i giorni il sacro processo di liberazione che ho scritto e che ho messo liberamente su youtube quindi lo puoi scaricare lo puoi ascoltare tutti i giorni anche dal mio sito connessioneangeliche.com puoi scaricare l'mp3 o il pdf puoi stampare e recitare tutti i giorni questa preghiera di liberazione ti libera da tutto ciò che ho posto all'amore ragazzi da tutto ciò che non è amore da tutto ciò che ti sta impedendo di raggiungere i tuoi sogni obiettivi dell'anima ok diciamo che poi una volta che tu fai questa pulizia ok e liberi il tuo canale è importante anche chiedere e chiedere nel modo giusto non supplicando ma chiedere con gratitudine come vi ho detto prima c'è un modo in cui puoi chiedere con le tue parole col tuo sentire per piacere aiutami arcangelo michele cari angeli vorrei manifestare una casa nuova un fidanzato una fidanzata degli amici in viaggio una macchina nuova un nuovo lavoro nuove opportunità più successo entusiasmo gioia e passione lo dici in parole tue poi inizia a dire grazie perché ho manifestato la casa dei miei sogni il mio compagno e inizia a utilizzare le tecniche di manifestazione però anime meravigliose con quello che mi sta dicendo l'arcangelo michele in questo momento è inutile come dire praticare la manifestazione se non avete perdonato o se avete dei voti di povertà attivi perché è come avere un iceberg che spinge contro la superficie voi nella vostra parte razionale siete la punta dell'iceberg capite ma l'intero iceberg è l'inconscio e se l'inconscio è programmato per la povertà per la miseria o per la sopravvivenza o per il nubilato il celibato per i blocchi al successo perché magari vi sentite indegni meritevoli è un grande casino non riuscite a manifestare quindi perdono compassione per il mondo là fuori uscire dalla rabbia dal giudizio dalle parole brutte perché comunque ci sono persone che imprecano alle volte anche contro dio non credo che quelli che mi seguono lo facciano però alle volte possono arrivare degli scatti di rabbia ad alcuni di voi ecco perdonare questo vi guarisce vi libera questo lo dico perché ci sono persone che io conosco che sono molto pure sono anime molto allineate però hanno questi questi momenti no invece questi momenti l'unico modo per lasciarli andare è perdonare ok e poi fare il processo di liberazione dopodiché chiedere ringraziare come che già avvenuto e stare in silenzio in pace in serenità in armonia meditare un po' meditare un po' ok trovare le risposte dentro il tuo cuore disconnetterti un attimino dal caos del mondo esterno va bene diciamo che magari per alcuni di voi non è il massimo stare in mezzo alla folla magari avete bisogno un attimino di trovare la pace nel vostro cuore quindi magari andate in mezzo alla natura mettete un incenso in casa purificate la casa e meditate un po' ok in quanto prenderti una pausa e tranquillità ti donerà più chiarezza sul prossimo passo da compiere ok anime meravigliose bene hai tanto chiesto di incontrare anime affini al tuo cuore ebbene nuove amicizie persone che magari hai già conosciuto potrebbero essere le persone giuste con cui instaurare delle connessioni delle connessioni di partnership lavorativa ma anche di vere e proprie amicizie dei legami d'amore puro nell'amicizia ok quindi assolutamente queste persone sono le persone giuste per te quindi arriveranno se ancora non sono arrivate l'energia è quella giusta continua a manifestare continua a lavorare sulla manifestazione ragazzi voi non ci crederete io ho creato il mio quadro delle visioni ve ne faccio vedere solo un pezzettino perché voglio dire è personale vorrei riuscire mannaggia non voglio farvelo vedere tutto perché è personale vediamo un po' se non riesco però per farvi capire per farvi capire forse non riesco e forse l'universo non vuole che ve lo faccia vedere ok aspetta ecco qua perché non si condivide con tutti eh cioè è una cosa però per farvi vedere i viaggi ok i viaggi eh ho messo i luoghi dove voglio andare ho preso le foto ho creato un puzzle ho creato tutte le foto di quello che voglio manifestare ok eh non riguarda altre persone riguarda solo me il consiglio se volete manifestare una relazione d'amore non non fatelo con una persona specifica perché c'è il suo libero arbitro magari potete mettere delle foto dove ci sono due persone che sono innamorate che sono vicine che si vogliono bene e quindi create quelle quell'energia nel vostro quadro delle visioni un'amicizia magari vi mettete delle foto dove state chiacchierando con delle persone il successo siete degli speaker dei motivatori siete dei maestri spirituali eh magari se non avete voi delle foto vostre prendetele da spunto prendete spunto da internet prendete la foto di un grande formatore poi mettete il vostro viso cioè potete fare cose grandiose creare il vostro quadro delle visioni ma perché perché è importante dare immagini positive alla vostra creazione eh perché oggi siamo bombardati da film siamo bombardati da eh da telegiornali da trasmissioni inutili eh che ci danno immagini inutili ma voi non ci crederete queste immagini vanno nell'inconscio e vanno a creare le vostre credenze quindi cerchiamo di creare i nostri film potreste anche creare dei video eh non lo so dei video con delle immagini e guardarlo tutti i giorni io non lo so potete veramente fare grandi cose però questo è proprio per cambiare l'energia passare dal passato e proiettarvi nel vostro futuro ok quindi per chi riesce a visualizzare già lo può fare nella propria immaginazione interiore per chi come me non vede quando chiude gli occhi non vedo niente ok mi faccio il mio quadro delle visioni quindi esistono tanti metodi per manifestare ma ricordiamoci quello che ha detto l'arcangelo Michele perdono compassione sciogliere i voti ok i vostri sogni diventeranno realtà questa è una cosa meravigliosa quindi assolutamente l'energia del presente è molto ehm allineata nella manifestazione dei vostri sogni alcuni sono già manifesti altri si manifesteranno ma c'è una carta finale abbiamo parlato tanto di cose spirituali e materiali insieme perché le cose non vengono separate energia uguale materia la materia non è altro che una forma di energia più densa ma è nata dall'immaginazione creativa degli esseri umani di dio dell'universo e di tutti gli esseri che abitano l'universo ok quindi voglio dire la nostra evoluzione spirituale è importante quanto la nostra manifestazione materiale c'è un invito alla riconnessione al sé alla ad ascoltare la propria anima e molti di voi stanno riceveranno un risveglio e per chi è già risvegliato un un upgrade una crescita spirituale maggiore consapevolezza maggiore connessione maggiore ascolto con la propria anima il proprio sedivino io sono felice di questa lettura questa lettura è meravigliosa prima di salutarci vorrei leggere un messaggio da questo libro che dice di essere un libro del futuro se domandi ti risponde allora facciamo una domanda io chiedo a questo libro all'energia di questo libro agli angeli all'arcangelo Michele con la massima protezione fisica psichica in tutti i livelli chiedo di ricevere il messaggio più allineato per me e per tutte le anime che mi stanno ascoltando in questo momento per l'anno nuovo come augurio di un nuovo inizio allora solo se abbandoni la pigrizia potrai volare questo è bellissimo ragazzi solo se abbandoni la pigrizia potrai volare insomma va bene quando la pigrizia interiore si impadronisce della situazione ok questo diceva ma a me non mi tocca invece no in un aspetto della mia vita mi tocca perché potrebbe riguardare magari non la tua vita in generale lavorativa potrebbe riguardare magari il fatto che devi praticare dello sport il fatto che devi scriverti in palestra il fatto che devi iniziare quel libro che tanto stai rimandando il fatto che devi mandare quel curriculum che devi fare quella telefonata che ti devi dichiarare che devi parlare che devi fare qualcosa e ti stai lasciando andare quindi questo è molto interessante quindi quando la pigrizia interiore si impadronisce della situazione qualunque azione qualunque cambiamento qualunque nuovo passo risulta estremamente faticoso occorre liberarsi subito della pigrizia senza indugio alcuno bene grazie per il messaggio dell'anno nuovo arcangelo michele dritta al cuore io veramente sono entusiasta per questa lettura vorrevo ricordarvi che faccio delle sessioni private ma non tantissime quindi diciamo che se vi volete prenotare per gennaio qualche posto c'è ancora per quanto riguarda il corso di connessioni angeliche online ma dal vivo è online ma dal vivo nel senso che ci connettiamo su zoom settimanalmente per nove settimane un percorso per imparare a connetterti con i tuoi angeli con l'arcangelo michele un percorso meraviglioso ok inizierà il 26 gennaio e ci sono ancora quattro posti anime belle ci sono persone che sono un po incerte però quelle persone sappiano che quattro posti si come si dice si occupano in fretta quindi chi se sei indeciso chiama ascolta il tuo cuore ascolta la tua anima prega e chiedi se questo è per il tuo massimo bene quindi ripeto 20 venerdì 26 gennaio inizia il corso di connessione angeliche il nuovo corso online per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce diciamo che faremo anche un percorso con logo ceiling di cinque settimane insomma è un percorso bello potente questo inizierà il 26 lunedì 26 febbraio ok ci sono ancora 7 posti su 10 va bene per quanto riguarda la voglia di fare un'esperienza magari con le nuove frequenze di luce però dal vivo in presenza il mio prossimo seminario dal vivo in presenza sarà a san donato milanese dal 23 al 26 marzo 2024 ragazzi voi non ci crederete ma ci sono pochissimi posti va bene 6 7 posti più 6 che 7 quindi veramente se sei interessato e ti vuoi iscrivere al seminario contattami basta anche una caparra e voglio dire c'è tutto il tempo per ammortizzare la spesa va bene se invece sei a Roma il prossimo percorso seminario per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce partirà dal 25 maggio no bugia no scusate un attimo aspetta un attimo no no dal 25 scusate al 28 maggio 2024 va bene 10 posti disponibili quindi aspetto vostre notizie per qualsiasi cosa resto a disposizione intanto io vi auguro un anno nuovo una chiusura del vecchio lasciate andare oggetti fate pulizia energetica di persone di energie purificate la vostra casa liberatevi tutto quello che non usate donatelo in beneficenza cercate di alleggerirvi per creare un mondo nuovo per proiettarvi per un futuro ricco di abbondanza di gioia di fratellanza di sorellanza di bellezza di ricchezza di salute perfetta di relazioni straordinarie vi voglio bene e ci sentiamo l'anno prossimo un bacione e a presto auguroni veramente col cuore ciao ciao Grazie a tutti